Mi fa ridere, mi fa ridere la speranza, che perforzava il castello, e che a sémini pensieri nel tempo dell'incostanza, mi fa ridere, mi fa ridere la speranza. Non mi fa ridere, 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 mi fa I poeti dell'antologia Protesto, una bella antologia di poesia contemporanea curata da Luca Paci, vennero e lessero le loro poesie, se non che Dale, invece di leggere una sua poesia, quel pomeriggio a mente declamò tutto il pianto della scavatrice di Pasolino. Dale dà corpo, passione e voce alla poesia, anche quando non è la sua di poesia, però lei naturalmente ha scritto dei libri di poesia suoi e l'ultimo libro è un libro per Manni, si chiama Inenito per una passandra e sta lavorando a due nuovi progetti, uno in prose poetiche, lettere per Alda Merini e un altro invece, sono delle prose un po' più lunghe, sono proprio dei racconti, dal titolo meraviglioso Sette carte alla regina. Detto questo, non dico altro, leggerà oggi Dale Isabella Morra, Barbara Strazzi, Suorio Ana della Cruz, Elizabeth Barrett Browning, Amelia Rosselli e Andamelli. Sarà accompagnata dalla voce del soprano Paola Perigni, che anche lei fa parte di una piccola e interessante e bella associazione, che a sede mi sembra a Tivoli, Vento di Tremontana, e dalla chitarra del maestro Carlo Gizzi. Grazie mille, io ringrazio sempre Cetta perché con me è estremamente generosa, e per una giovane comunque avere il sossegno di una persona come Cetta, moglie appunto di un maestro, è importante. Dunque Cetta, e se facciamo qualcosa sulle donne, ed io pensai, va bene, scegliamo cinque poetesse, e mi sono permessa di dare il titolo mistica di donne, perché comunque quello, diciamo, il fil rouge di queste cinque poetesse è proprio l'analito spirituale e mistico che ritroviamo nei loro testi. Ora, ci sono delle poetesse tipo Sorquana Ines della Cruz, che era una suora, seppur laica, comunque sicuramente dà un respiro molto più mistico. Della Merini ho scelto il Magnificat, quindi questo omaggio che lei fa praticamente a una figura superba, che è una Madonna, e insieme a Paola Perini, amica appunto dell'Associazione Vento di Tremontana, Paola, insieme al maestro Carlo Gizzi, faranno, suoneranno dei brani sul repertorio della compositrice Barbara Strozzi, una compositrice barocca del Seicento, quindi mi sembra un omaggio molto bello al mondo femminile. La casa dove si beve acqua ed anice, e le lenzuola ben tirate sul letto sono di lino bianco, le case in penombra, senza odore di tabacco, ma con la sottile accredile di una polvere asciutta che sa di calura, sono le case delle donne, nella sera, davanti alle peone, davanti a un cielo stellato. In queste case, percorse dalle bambine, come dalle vecchie, dalle donne incinte, come dalle vedove, dalle zitelle, nessuna donna dei miei ricordi è me stata avvizzita o inacidita, saprei di sera già bella, sopra il cielo stellato. Non ricordo un problema di menopausa o di bellezza sfiorita, essere donna voleva di rivire la casa da cui nessuna si sentiva esclusa, l'odore dei gomiti freschi delle bambine, mischiandosi con il sudore delle grammi, con il dolciassolo delle mestruate ed il borotalco di nonne e bisnonne. E non cadranno le peone, cadrà l'amore, cadrà la sera. La casa senza uomini è una casa senza tempo, la pigrizia dello specchio e la lentezza della cucina, essendo il ritmo di una navigazione del corpo, ritmo interno, ghiandole che salgono in superficie, che dettano armonie, aprono gli strarchi di stanza in stanza, da immaginata a immaginata attesa. Nella sera davanti alle bionne, davanti a un cielo stellato, saprai di sera, già bella, sopra il cielo stellato, le donne si bastano, quando aprono le loro finestre, sono padrone del loro tempo, non invecchiono, non induriscono negli occhi e nella pelle, sanno essere regine. Quando l'amido e l'indaco, su cui solo loro hanno operato, si aprono di notte, all'improvvisa, l'ingresso dell'uomo e della casa, allora che respira. Riconoscere negli odori di una giovane, i propri odori passati e nel portamento di un'anziana, la propria odorevolezza futura, affinché, se finisce il desiderio dell'uomo, del proprio corpo, brace che accompagna solo un pezzetto di vita, sempre va davanti e sfugga, perfetta e leggera, come una pasta fatta in casa, la propria desiderabilità di donne. Nella sera davanti alle bionne, davanti a un cielo stellato, saprai di sera, già bella, sopra il cielo stellato, e non cadranno le bionne, cadrà l'amore, cadrà la sera, e la sera ti farà l'amore, e ti farà bella, e tu sarai l'amore, e sarai la sera, in un cielo stellato, la casa dove si beve acqua ed anice, e le lenzuola ben tirate sul letto, sono di lino bianco le case in penombra, senza odore di tabacco, ma con la sottile accredita di una polvere asciutta, che sa di calura, sono le case delle donne. Che si può fare? Che si può fare? Le stelle e le rubelle non hanno pietà, pietà, non hanno pietà, che si può fare? Che si può fare? Se il cielo, se il cielo non ha un influsso di pace, un influsso di pace, al Dio che l'ha. Le stelle e le rubelle non hanno pietà, che si può fare? Che si può dire? Che, 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 che si può dire? Negli altri disastri mi piavano, che si può fare? E se il cielo non ha un influsso di pace, Che, 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 che se il tuo amore, un respiro d'innegenza, un respiro d'innegenza, un respiro d'innegenza, al mio martire, che si può dire che, 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 che si può dire. Grazie.